ehi piccolo gianni ho una sorpresa per te un nuovissimo trenino questo è il treno dei colori dei colori dei colori questo è il treno dei colori dell'arcobaleno ok piccolino vediamo se funziona che ne dici se impariamo i colori su troviamo il rosso dai il rosso dai il rosso dai su troviamo il rosso dai cercalo qui intorno cercalo bene piccolo gianni coraggio cerca qualcosa di rosso ehi chi ha preso la mia pallina bravissimo piccolo gianni è una pallina rossa la pallina è rossa sì è rossa sì è rossa sì la macchina lo skate e il vestito sono rossi ok ora prova a cercare qualcosa di verde ciao tesoro cosa ti serve fantastico va nel vagone verde il cucchiaio è verde si è verde si è verde si colori cubo pianta e vaso sono tutti verdi ora trova delle cose che sono gialle bravissimo mettila nel vagone giallo la ciotola è gialla si è gialla si è gialla si è gialla si la sedia i cuscini e l'auto sono tutti gialli e adesso tocca il viola bravissimo hai trovato qualcosa di viola si apre la sbarra viola quelle scarpe sono viola sono viola sono viola guarda le biglie e lo slime c'è viola dappertutto aspetta un secondo quella è la mia pallina rossa quello è il mio cucchiaio verde ehi quelle sono le mie scarpe viola dai troviamo anche il blu anche il blu anche il blu il berretto il pigiama sono tutti blu questo è il treno dei colori dei colori dei colori questo è il treno dei colori dell'arcobaleno yuppie ziii